Cosa faccio se non mi sento perdonato? Forse ti sarà capitato di chiedere perdono a Dio in preghiera e di non sentirti perdonato oppure di dubitare del fatto che Dio ti avesse perdonato. Magari hai sentito che dopo aver pregato non era cambiato niente nel tuo cuore e ti sei chiesto ma Dio mi ha perdonato veramente? Non mi sento perdonato. E allora che cosa devi fare quando ti succede questo? Forse ti sarà capitato di confessare più volte lo stesso peccato, magari con il pensiero chissà se l'avrò confessato bene, chissà se ero veramente pentito la prima volta che l'ho confessato, ma per sicurezza lo confesso una seconda, una terza, una quarta volta, perché non è cambiato nulla nel mio cuore, non mi sento perdonato. Per rispondere a questa domanda dobbiamo capire qual è il rapporto tra la fede e i sentimenti. La fede può essere esercitata dal credente anche contrariamente a ciò che il cuore sente. Noi abbiamo il potere di decidere di esercitare fede con la nostra volontà in ogni circostanza, anche andando contro i sentimenti che proviamo in quel momento. Ebrei 11,1 ci dice che la fede è dimostrazione di cose che non si vedono. C'è un altro passaggio nel quale Paolo accosta il concetto di fede a quello della vista. In seconda Corinzi 5, al versetto 7, dice «Camminiamo infatti per fede e non per visione». Quindi la fede è una dimostrazione di ciò che non si vede ancora, di che non si sente ancora. E noi siamo chiamati a camminare per fede. Che cosa significa quando Paolo dice che dobbiamo camminare per fede e non secondo la nostra visione? Camminare secondo la propria visione vuol dire vivere scegliendo come propria guida il proprio cuore, cioè i propri sensi, la propria percezione delle cose, le proprie emozioni. Ma queste cose non sono mai una guida sicura. La fede infatti non ha nulla a che vedere con i sentimenti. Avere fede significa vedere le cose come Dio le vede, vedere la realtà e le circostanze dalla prospettiva di Dio e non dalla prospettiva umana. In Proverbi 23, 19 è scritto «Ascolta, figlio mio, sii saggio e dirigi il cuore per la diritta via». Non è interessante questo versetto? Il saggio Salomone ci dice che il cuore, che poi rappresenta la mente, va diretto, dirigi il cuore per la diritta via. E chi è che deve dirigere il cuore? È la volontà. La volontà è la facoltà più alta che Dio ci ha messo nella mente ed è in grado di governare la mente quando è fortificata dalla potenza di Dio. Non dobbiamo farci controllare dai sentimenti. È il famoso detto che dice «Va dove ti porta il cuore» è una delle cose più pericolose da fare nella vita. Vivere secondo questa regola può portare a risultati disastrosi e ha portato molti a vivere esperienze amare e dolorose che avrebbero preferito non vivere nella loro vita. Dio vuole che sia la facoltà della volontà a tenere saldamente in mano le redini della tua mente in modo che la tua mente non sia trascinata a destra e a sinistra dai tuoi sentimenti. Immagina che un uomo porti fuori il suo cane tenendolo al guinzaglio. Forse ti sarà capitato qualche volta di vedere dei ragazzini o dei bambini portare al guinzaglio un cane che era magari di taglia medio-grossa e di vedere che era piuttosto il cane a portare in giro il ragazzino piuttosto che il ragazzino a dirigere il cane dove voleva. Ma ora immagina un'altra scena. Immagina un uomo grande e grosso magari alto un metro e novanta per novanta chili, muscoloso portare fuori un cane di piccola taglia per esempio un chihuahua o un bassotto e immagina di vedere questo uomo trascinato a destra e a sinistra da questo cane di piccola taglia. Sarebbe una scena ridicola da vedere. Che cosa penseresti vedendo un uomo di tale stazza trascinato in giro da un cane così piccolo? Vedete, questo è quello che succede nella nostra mente quando la lasciamo governare dai nostri sentimenti. È qualcosa purtroppo non di ridicolo ma in realtà l'opposto. È qualcosa di tragico. Perché la volontà è la facoltà che governa tutta la mente e perciò ha la forza che Dio ci ha dato la forza nella nostra volontà per controllare, per tenere a bada i nostri sentimenti. Infatti quando noi ci facciamo trascinare a destra e a sinistra dai nostri sentimenti siamo proprio come quell'uomo grosso che si fa trascinare a destra e a sinistra da un cagnolino pur avendo nelle sue braccia la forza per dirigere e farlo andare dove vuole lui. Noi abbiamo la forza donataci da Dio nella nostra mente con la volontà di tenere a bada i sentimenti e di dirigerli dove diciamo noi. E quando decidiamo di fare così? Quando decidiamo di esercitare fede fede in quello che Dio dice a dispetto di quello che sentiamo nel nostro cuore allora i sentimenti seguiranno la forza della fede. Con la nostra volontà abbiamo il potere di decidere di esercitare fede anche contrariamente a ciò che sentiamo. E quando esercitiamo la nostra volontà in questa direzione i sentimenti seguiranno la fede la decisione della nostra volontà. Quando crediamo a una promessa di perdono anche quando non ci sentiamo perdonati prima o poi arriverà anche il conforto di Dio arriverà la pace e il sentimento che siamo stati veramente perdonati da Dio. Quando crediamo a una promessa di pace della Bibbia pur avvertendo ancora nel cuore l'ansia o la paura prima o poi la pace arriverà nel cuore come benedizione di Dio che ci onora quando scegliamo di esercitare fede a dispetto di quello che sentiamo nel cuore. Ecco perché è scritto in Romani 10,17 la fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Nel conoscere la parola di Dio e le promesse in esse contenute che siano promesse di perdono promesse di pace o di qualunque altra cosa noi conosciamo il modo di Dio di agire con gli uomini nella vita di personaggi biblici che sono passati per situazioni circostanze simili alle nostre ed è così che la mia fede trova una solida base un solido fondamento sul quale poggiarsi perché noi ci appoggiamo su un chiaro così dice il Signore e le promesse della parola di Dio sono un fondamento sicuro sul quale poggiare la nostra fede perché Dio è un Dio che non mente mai è un Dio fedele che mantiene ogni sua promessa. La storia del paralitico di Betesda e della sua guarigione illustra molto bene il rapporto tra fede e sentimenti e ci dice quello che dobbiamo fare quando non ci sentiamo perdonati dopo aver confessato i nostri peccati. Gesù raggiunse quell'uomo che era paralitico da 38 anni alla piscina di Betesda e in Giovanni 5 e 6 troviamo questa domanda chiara, semplice e diretta che Gesù rivolse al malato. Gesù gli disse vuoi essere guarito? Può sembrare una domanda scontata e banale certo che quell'uomo voleva essere guarito ma in realtà questa domanda di Gesù evidenzia un principio fondamentale non si può essere perdonati o salvati contro la propria volontà. Se non decidiamo di credere a Gesù con la nostra volontà se non decidiamo di esercitare fede nelle promesse della parola di Dio non potremo essere né perdonati né salvati e quindi Gesù rivolge anche a te oggi questa domanda vuoi essere guarito? Con questa domanda Gesù voleva comunicare al paralitico che aveva il potere di guarirlo perché mai gli avrebbe chiesto se voleva essere guarito se non aveva anche il potere di farlo. È chiaro Gesù voleva guarirlo e aveva anche il potere di farlo. E all'inizio il paralitico rispose dicendo che nessuno poteva aiutarlo ad andare nella piscina perché si credeva che le acque erano agitate da un angelo e chiunque si fosse immerso nelle acque per primo sarebbe stato guarito. Quindi il malato espresse a Gesù il suo sconforto la disperazione della sua situazione non aveva nessuno che lo poteva aiutare a scendere nelle acque. Ma non era quello l'aiuto che Gesù intendeva dare al paralitico. Gesù li disse lo troviamo in Giovanni 5 ai versetti 8 e 9 alzati prendi il tuo lettuccio e cammina e l'uomo fu guarito all'istante prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Gesù gli comandò semplicemente di alzarsi. Deve essere stato in quel momento che il paralitico realizzò che colui che aveva davanti aveva anche il potere di guarirlo. Deve aver ragionato se mi sta chiedendo se voglio essere guarito e mi sta ordinando di alzarmi vuol dire che questo uomo ha il potere di guarirmi. In quel momento il paralitico aveva una scelta davanti a sé un bivio. Poteva credere che la guarigione fosse possibile oppure aspettare di sentirsi guarito prima di alzarsi. E quell'uomo grazie a Dio scelse di alzarsi prima di sentirsi guarito. Il paralitico non aveva evidenze che gli dicevano che sarebbe veramente guarito se non il comando di Gesù alzati prendi il tuo letuccio e cammina. E quindi non aspettò di sentire uno strano formicolio alle gambe un cambiamento dentro di sé non aspettò di sentire che la forza gli era ritornata nelle gambe avrebbe potuto facilmente trovare una ragione per dubitare per esitare per aspettare e invece no quel paralitico scelse semplicemente di ubbidire al comando di Gesù. Scelse di credere che Gesù aveva il potere di guarirlo se gli stava chiedendo di alzarsi e quindi decise di agire in base alle parole che Gesù aveva pronunciato. Se Gesù aveva detto alzati allora ubbidì a quel comando e decise che si sarebbe alzato anche se non sentiva di essere diverso da qualche minuto prima. Se Gesù gli aveva comandato di alzarsi allora doveva alzarsi e nel credere alla parola di Gesù nel credere che Gesù aveva il potere di guarirlo che quell'uomo ricevette forza nelle gambe per alzarsi e quindi fu nell'atto stesso di cercare di alzarsi che gli arrivò la forza nelle gambe e che fu così guarito. Ma se fosse rimasto lì a pensare a dubitare ah ma non mi sento migliore di prima non mi sento più forte di prima sarebbe rimasto lì e non sarebbe stato guarito perché è nella parola stessa pronunciata da Gesù esisteva la potenza per la guarigione la parola stessa di Gesù contiene ciò che è necessario per guarirci nella parola di Dio è già contenuta la potenza per l'attuazione di quella parola che cosa intendo dire che Dio sta dietro la sua parola che non è che Dio pronuncia cose a vanvera a casaccio ma che se Dio promette qualcosa è perché egli è anche in grado di farlo questa era la fede di Abramo come ci viene detto dall'apostolo Paolo in Romani capitolo 4 che Abramo non dubitò che Dio era in grado di dargli un figlio dal grembo morto di Sara che Paolo credette che Dio era anche potente da compiere ciò che aveva pronunciato con la sua bocca Dio è un Dio che non mente mai è fedele se ha promesso qualcosa vuol dire che è anche in grado di compiere quella cosa perché non dobbiamo dimenticarci che Dio è un Dio onnipotente ma non è solo un Dio che ha potenza è anche un Dio buono che quindi desidera il nostro bene desidera perdonarci desidera salvarci quindi Dio quindi Dio ha il potere e la volontà di perdonarci di guarirci e di salvarci eternamente se Dio ha detto una cosa è perché Dio è in grado di attuare quello che ha detto nella sua parola perciò nella parola di Dio stessa è contenuta la forza per l'attuazione di quella parola per l'adempimento di quella promessa infatti Gesù nella parabola del seminatore paragonò la parola di Dio a un seme in Luca 8-11 troviamo nella interpretazione di Gesù della parabola la semente è la parola di Dio quindi il seme che germoglia che cresce che porta frutto fa così perché ha in sé la vita e lo scopo per cui il seme viene piantato è perché l'agricoltore possa raccogliere frutto e così Dio semina la sua parola nel nostro cuore perché desideri che porti frutto nella nostra vita e come il seme cresce quando trova delle condizioni ideali quando trova un buon terreno quando per esempio spende il sole su di lui quando viene annaffiato o piove allora allo stesso modo la parola di Dio cresce e porta il frutto desiderato da Dio quando trova le condizioni ideali nel nostro cuore ma quali sono le condizioni ideali che deve trovare nel mio cuore nel tuo cuore un cuore arreso alla volontà di Dio e un cuore che esercita fede nelle promesse della parola di Dio infatti in ebrei 11.6 è scritto che chi non ha fede non può piacere a Dio e Dio non può fare nulla per chi non ha fede in Lui Dio non può adempiere le sue promesse per chi non esercita fede in quelle promesse il seme così piccolo è straordinario perché Dio ha messo dentro quel seme un principio vitale c'è la vita in quel seme è un mistero è un miracolo piantare un piccolo semino e vedere che poi dà luce a una pianta magari così grande o addirittura a un albero e quindi se ci riflettiamo quel semino piccolo che viene piantato ha contiene in sé un principio vitale che Dio gli ha messo dentro quel semino così piccolo ha già racchiuso in sé quella pianta grande che diventerà quel semino così piccolo ha già racchiuso in sé quel grande albero che poi diventerà la stessa cosa è per la parola di Dio che appunto Gesù ha paragonato a un seme ogni promessa della parola di Dio contiene un principio vitale dentro di sé ogni promessa della parola di Dio contiene in sé già la benedizione promessa ogni promessa della parola di Dio contiene in sé già l'adempimento di quella promessa perché quella stessa promessa ha il potere di produrre ciò che Dio ha promesso la realizzazione della promessa è già contenuta nella parola di Dio stessa perciò quando credi per fede alle promesse di Dio sai già di avere per fede la benedizione che è promessa nella promessa stessa c'è già la benedizione promessa basta reclamarla con fede per ottenerla Gesù disse che ogni cosa che noi domandiamo pregando se crediamo di riceverla allora la otteniamo e quando con la volontà quindi decidi per fede di credere a una promessa della parola di Dio e di ringraziare già Dio in anticipo per il suo adempimento prima ancora di vederne l'adempimento allora i tuoi sentimenti seguiranno la decisione della volontà e avrai pace e avrai la certezza del perdono ma perché avrai deciso con la tua fede di credere prima di vedere la benedizione promessa quando tu credi per fede che sei perdonato allora tu sei perdonato non perché lo senti ma perché Dio lo ha detto nella sua parola e quando agisci in questo modo allora arriverà anche la benedizione promessa la pace la certezza del perdono ricevuto quando confessi i tuoi peccati a Dio e credi che Dio ti ha perdonato credi che Dio ti ha perdonato perché questo è quello che Lui ti ha promesso ci sono decine e decine di promesse di perdono nella scrittura e sappiamo per certo che Dio vuole perdonarci non per tutte le cose che chiediamo sappiamo per certo se sono nella volontà di Dio per noi ma quando noi chiediamo perdono a Dio possiamo andare a Lui con la certezza che Egli vuole perdonarci e che ha il potere di perdonarci e allora andiamo a Lui con fede non è una questione di come ti senti davanti a Dio ma la questione è che cosa ha promesso Dio ha promesso che ti perdonerà quando tu confesserai le tue colpe e allora vai a Lui con fede metti il tuo dito apri la bibbia e metti il tuo dito su una promessa e di Signore tu l'hai detto e io ci credo e io ti ringrazio e la benedizione promessa che è la pace che deriva dal perdono giungerà presto Dio non ti deluderà mai ti donerà sempre con il perdono anche la sua pace come risultato finale della fede che hai deciso di esercitare nella sua parola la parola di Dio è vita la parola di Dio è sicura Dio ha detto che vuole perdonarti e può perdonarti ogni peccato vai a Lui con fede credendo non ha importanza come ti senti decidi di credere e allora vedrai la benedizione promessa da Dio grazie a tutti Grazie a tutti.